L'Uni Basket Amatori di Pescara batte Civitanova 82-69, 33-37 il primo tempo. Il punteggio potrebbe far pensare ad una vittoria poco sudata da parte del quintetto pescarese. Non è stato così perché la vittoria è maturata grazie ad un ultimo quarto davvero super. Coach Stefano Raiola, partiamo da questa nota positiva. La nota positiva è che abbiamo vinto e che se siamo stati bravi a rimanere in partita nonostante loro al primo tempo avessero avuto delle percentuali a tre punti veramente importanti mentre noi abbiamo chiuso con uno su quindici e questo appunto la dice tutta. Poi dopo nel secondo tempo noi siamo migliorati ma loro comunque hanno fatto un'ottima partita tra parentesi Civitanova è una squadra competitiva che si sta giocando l'ingresso nei play-off ad oggi pienamente nei play-off e quindi ci siamo stati bravi a rimanere in partita poi come hai detto tu nel quarto quarto abbiamo fatto quel rush finale che ci ha permesso di portare di mantenere i due punti a casa. Raiola possiamo dire che la partita è stata spaccata tra virgolette da panchina con gli innesti e gli ingressi di Serafini e Petrazzani? Guarda, sì sicuramente nel terzo e quarto quarto l'ingressi di Serafini e Petrazzani ci hanno dato grande solidità e dopo Alberto è stato bravissimo a prendere gli assist dei ragazzi su dei tagli su delle situazioni particolari tecniche fare le canestri da sotto però non voglio dire che veramente io ho quasi nove titolari dalla panchina sono entrati i giocatori che in quel momento ci hanno permesso di portare di raggiungere la vittoria e quindi è giusto che giocassero loro in quel momento che hanno dato grande intensità, hanno fatto canestro, Leonzio è migliorato nel secondo tempo quindi sono contento di questo, certo fare uno su quindici da tre al primo tempo e anche al secondo siamo partiti un po' così non va bene ma so quello che fanno i ragazzi so che durante la settimana segnano tanto quindi magari è stato soltanto un infortunio. E comunque vi tenete stretti questo terzo posto per il momento? Sì ci teniamo stretti questo terzo posto che comunque è tutto aperto perché ci sono i riposi c'è chi ha giocato una partita in più che ha giocato una partita in meno dovremmo cercare di vincerle tutte però adesso abbiamo campi poi avremo due trasferte molto difficili a Fabiana e Senigaglia mi fa piacere comunque che abbiamo appunto strappato questa vittoria spero anche di far tornare l'entusiasmo al presidente che oggi comunque è venuto a vederci nonostante aveva detto che sarebbe stato assente quindi gliela dedichiamo e siamo contenti di questo.